L'estate sul Gargano riserva tantissime sorprese e appuntamenti imperdibili. Uno di questi è Tutti libri, libri per tutti, la manifestazione che prevede presentazioni di libri e incontri con grandi autori e personalità della cultura e dello spettacolo. La seconda edizione dell'evento, organizzata dal Comune di Peschi, ci si terrà dall'1 all'11 agosto e sarà preceduta da un'anteprima in programma il prossimo 26 luglio. Ermal Meta, Vinicio Capossela, Piero Dorfless, Elisabetta Dami, Roberto Genovesi, Francesco Paolo Tanzi e Diego De Silva sono gli ospiti chiamati a raccolta dal direttore artistico Michele Afferrante e attesi nel Borgo Marinaro. Insieme a quest'ultimo a credere fortemente nella continuità di Tutti libri, libri per tutti, è il sindaco di Peschici, Franco Tavaglione. Si tratta di un tesoro raccolto e offerto appunto affinché attraverso questo percorso artistico, letterario, culturale e musicale si possa promuovere il nostro territorio, si possa promuovere peschici con le sue bellezze naturali e nello stesso tempo abbiamo l'ambizione in questa maniera di contribuire al rafforzamento e allo sviluppo culturale della nostra comunità. Credo che abbiamo fatto un grande sforzo per garantire una rassegna di grande qualità.